In occasione di EIMA International 2021, fiera che si terrà a Bologna dal 19 al 23 ottobre, abbiamo un annuncio da comunicarvi. Il team di ELEVENT quest'anno non sarà presente in loco come da abitudine, ma saremo a vostra disposizione per tutti i giorni della fiera, solo virtualmente, tramite le piattaforme Google Meet o Zoom, e vi aggiorneremo sulle ultime ed importanti novità. Il prodotto è batterio statico certificato e siamo i primi nel settore agricolo a commercializzarlo. Il batterio statico che viene utilizzato per produrre tutti i nostri componenti in nylon vetro è certificato a Credia. Prenota il tuo appuntamento virtuale via mail o contattaci telefonicamente. ELEVENT, gli artigiani del vento, innovazione, entusiasmo, dedizione.